No al trasporto pubblico locale gratis per le guardie giurate e le forze armate. Il Consiglio regionale ha respinto una mozione presentata da Fratelli d'Italia. Autismo più garanzie su diagnosi e presa in carico. L'Assemblea regionale approva all'unanimità un atto presentato da Italia Viva. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto una mozione firmata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri, Francesco Torselli e Alessandro Capecchi in merito alla gratuità dei pubblici servizi di trasporto per i corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa d'ordinanza. Come ha spiegato Veneri illustrando l'atto, emendato in alcuni punti, al centro dell'attenzione c'era la preoccupante crescita di episodi di criminalità, vandalismo e delinquenza sui mezzi pubblici toscani. Un emendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico che chiedeva un intervento presso il Governo nazionale per attivare un fondo a favore delle regioni a questo scopo non è stato accettato dai firmatari della mozione e quindi il PD ha dichiarato voto contrario e l'atto è stato dunque respinto dalla maggioranza con 21 voti contrari, 13 favorevoli e nessuno astenuto. Sentiamo le interviste ad iniziare proprio dai rappresentanti di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico. Sì, a parer nostro oggi si è persa una grande occasione di risolvere un problema che affligge coloro che utilizzano il sistema del trasporto pubblico toscano sia su ferro che su ruota e che è il tema della sicurezza, un tema che è da tanto tempo denunciato appunto da chi utilizza questi mezzi di trasporto, principalmente sono giovani, sono disabili, sono donne o persone anziane che vengono derubate, scippate, violentate e noi avevamo fatto una proposta di avvicinare chi gestisce il trasporto pubblico con chi si occupa di sicurezza nella nostra regione. In questo caso sia le forze di polizia provinciale che le guardie giurate alla condizione che viaggiassero in divisa. Purtroppo oggi il PD ha confermato questa incapacità di cogliere le idee a costo zero perché il PD purtroppo è capace solamente a spendere e a bruciare risorse pubbliche e ha portato un emendamento che a parer nostro era irricevibile. Mentre noi dicevamo che la regione toscana, che è l'organo competente alla gestione del trasporto pubblico, doveva organizzare un tavolo per mettere d'accordo il gestore con chi fa sicurezza in Italia e a costo zero farli viaggiare gratuitamente per essere come detenzione nel trasporto pubblico, il PD ha fatto un emendamento perché ora è una classica mossa quella di impegnare il governo a inserire delle nuove risorse, quindi a spendere nuovi soldi per una cosa che secondo noi invece poteva essere totalmente gratuita. Questa purtroppo sarà una prassi dei prossimi mesi, hanno già iniziato a farlo, ancora il governo non è formato e già loro vogliono impegnarlo su cose che noi non siamo ancora in grado di impegnare. Comunque peccato perché si è persa un'occasione per risolvere un problema a costo zero e il PD in questo è il numero uno a fare i bilanci in rosso e a non risolvere i problemi. La sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico a livello regionale ci sta a cuore, ci sta molto a cuore come maggioranza e come gruppo del PD. E proprio per questo avevamo chiesto con un apposito emendamento, la mia prima firma, al gruppo di Fratelli d'Italia, al collega Veneri, il primo firmatario della mozione che chiedeva la gratuità per gli aderenti a gruppi di vigilanza privata di poter usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale. E con un apposito emendamento abbiamo chiesto che ci facesse carico, tra le altre cose, di appellarsi al governo futuro nascente per istituire un fondo che ristorasse le regioni tutte, dei mancati introiti rispetto alla gratuità per i componenti delle forze dell'ordine. La regione toscana fin dal 1998, legge 42 del 31 luglio 98, ha dato vita ad una convenzione con le forze dell'ordine tra le principali, la Polizia di Stato, l'arma dei carabinieri, la Polizia Penitenziaria, ad esempio, della possibilità di viaggiare gratuitamente sui nostri mezzi di trasporto pubblico a livello regionale, siano essi su gomma o su ferro, al fine di garantire con la loro presenza una maggiore sicurezza per gli utenti, per i passeggeri e al tempo stesso anche per i personaggi di bordo. Questa convenzione funziona fin dal 1998 e consente ai gestori del trasporto pubblico locale di essere ristorati per i minori introiti legati al fatto della gratuità per i componenti delle forze dell'ordine. Quindi noi rispetto a questa mozione abbiamo presentato una serie di emendamenti e in narrativa sostitutivi o soppressivi e nell'impegnativa che il collega Veneri ha dichiarato anche in aula accettare per il 99%, salvo le ultime due righe con le quali noi chiedevamo di attivarsi nei confronti del governo perché si desse vita ad un fondo nazionale che consentisse alle regioni di poter ristorare questi mancati introiti ai diversi gestori. Per capirsi si ragiona di 450 mila euro, 500 mila euro l'anno che la regione toscana ad esempio ristora ai gestori di trasporto pubblico locale per poter consentire alle forze dell'ordine di poter viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale. Questa è una cosa che ci sta molto a cuore e proprio per questo ho annunciato in aula che presenteremo una mozione nostra come gruppo del Partito Democratico e di maggioranza che governa la regione toscana affinché si riprendano quegli emendamenti presentati e ripeto per il 99% accettati dal proponente collega Veneri ma comprensivo anche della richiesta legittima non fuori luogo di chiedere al governo di impegnarsi nei confronti delle regioni che hanno questo genere di convenzioni. Ripeto la Toscana è dal 1998 che ha questa convenzione perché a noi la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico sta molto molto a cuore e quindi con forza chiediamo di istituire questo fondo che ci consente di allargare la platea degli usufruenti, la convenzione già in essere anche ai corpi di vigilanza privata, anche agli uomini e le donne della guardia costiera, anche agli uomini e le donne della polizia municipale, a tutti quei soggetti che con la loro presenza o in divisa o in borghese purché dichiarandosi al controllore o al personale di bordo della loro presenza garantiscano la possibilità di poter intervenire laddove ce ne fosse assolutamente necessità. È importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle forze dell'ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro. È un elemento positivo. Credo che si possa arrivare ad un elemento di convergenza nelle prossime settimane se anche da livello nazionale si possa sostenere questa che è una misura che a nostro avviso è positiva. Indubbiamente il tema della sicurezza sui mezzi pubblici di trasporto è un tema centrale. È un tema che oggi vede coinvolti cittadini, molto spesso donne, persone deboli che si ritrovano in situazioni anche di evidente pericolo. Quello che chiedeva la mozione era di favorire in qualche modo e di dissuadere anzi attraverso la presenza di personale in divisa sostanzialmente appartenenti anche all'istituto di vigilanza che in qualche maniera fossero come dire da dissuasore di certi tipi di comportamenti. Personalmente credo che ad esempio la presenza anche delle forze armate che possano viaggiare gratuitamente anche sui treni è un segnale anche di attenzione a chi molto spesso porta la divisa e chi spende anche la propria vita proprio per sostenere questo tipo di situazioni. Così non è stato, non c'è stato un approccio costruttivo. Si fa una questione di costi quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. Quindi anche in questo caso riteniamo un'occasione persa e soprattutto un mancato segnale a cittadini dell'attenzione su un tema che oggi invece è fondamentale. Garantire la sicurezza degli utenti su autobus e treni. Questo per noi è fondamentale e evidentemente per la maggioranza non lo è. Era una proposta di buonsenso quella di dare la possibilità agli appartenenti delle forze dell'ordine di usufruire dei mezzi pubblici gratuiti. Naturalmente quando sono in divisa per andare o uscire dal lavoro. Lo fanno già molte regioni. Lo fa la regione Lombardia, lo fa la regione Abruzzo, lo fa la regione Campania, lo fa la regione Sicilia. Oggi abbiamo scoperto che il Partito Democratico è contro le forze dell'ordine. Era di buonsenso per una serie di motivi. Il primo fra l'altro per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto, sui treni, sugli autobus, sul trasporto di linea, sul TPL pubblico, per i cittadini che montano sull'autobus e che molte volte si trovano stagio di borseggiatori, magari di piccola delinquenza, di piccola criminalità. Avere la presenza delle forze dell'ordine indivisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere. Guardate, ci è stato detto che non lo possiamo fare perché costa. A prescindere dal fatto che la sicurezza per il centrodestra e per Forza Italia non è mai un costo. Ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini. E l'elemento che abbiamo detto è, ma se è un costo, recuperate l'evasione dai biglietti. Noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno, che salgono su un pulma, che salgono sul trasporto pubblico, che non pagano il biglietto. Basterebbe recuperare quella scifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico. Cambiamo argomento. Attivarsi nei confronti del Governo e del Ministero dei beni culturali affinché siano messe in atto iniziative volte a tutelare il comparto dell'artigianato artistico e in particolare l'attività degli operatori di Carrara, che hanno maturato una significativa esperienza artistica nella riproduzione di opere scultore. È quanto chiede alla Giunta la mozione presentata dal gruppo consigliare del PD, primo firmatario Giacomo Bugliani, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Ad illustrare la mozione è proprio il Presidente della Commissione, Bugliani, che ha ribadito come essa nasca dall'esigenza di tutelare il settore dell'artigianato artistico nella prospettiva di evitare ripercussioni sotto il profilo occupazionale, economico e sociale del territorio, in particolare di quello di Carrara. Una mozione che è stata approvata all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale che ha come obiettivo quello di tutelare un settore particolare dell'artigianato, l'artigianato artistico, con particolare riferimento alla riproduzione di opere d'arte segnatamente scultore famose. Il tutto nasce da una vicenda, vicenda che è nata nel territorio di Carrara, nell'ambito dell'attività di un laboratorio artistico e che ha visto la riproduzione del David di Michelangelo. Si è innescato un contenzioso giudiziario che ha portato il Tribunale di Firenze a inibire al laboratorio artistico la divulgazione di quell'immagine riprodotta del David di Michelangelo che in realtà aveva alcune caratteristiche di diversità rispetto all'originale. Il quadro che si sta delineando è un quadro che ha allarmato profondamente gli operatori del settore. Il rischio che, andando per questa direzione e perseverando in questa prospettiva, si possa smantellare un intero settore dell'artigianato, appunto quello dell'artigianato artistico, con particolare riferimento alla riproduzione delle opere scultore, è effettivamente molto elevato. Il problema non riguarda soltanto Carrara, che pur ha un'attività molto intensa nell'ambito dei laboratori artistici del Marmo, ma può riguardare l'intero territorio nazionale. Per questo, con questa mozione, ho voluto chiedere alla Giunta regionale di potersi attivare presso il Ministero, affinché possano essere adottate tutte le misure più opportune, affinché pur nel rispetto della normativa vigente, in particolar modo del Codice dei beni culturali e ambientali, possano mettersi in atto le misure necessarie per garantire questo settore così importante, quello dell'artigianato artistico, tutte le imprese che vi operano, che sono oltre 20.000, e anche i moltissimi lavoratori di questo settore. Cambiamo ancora argomento, parliamo di salute, diagnosi precoce, presa in carico, centralità della famiglia e della scuola nel percorso di vita delle persone con autismo. Sono i temi al centro della mozione presentata dal gruppo consigliare di Italia Viva e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Ad illustrare l'atto consigliare è stato Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva. L'atto impegna la Giunta ad intervenire sulle aziende USL e le articolazioni socio-sanitarie e territoriali per la piena applicazione della delibera del luglio del 2020 in merito alla diagnosi precoce e alla presa in carico dei disturbi dello spettro autistico nel corso della vita. Sentiamo. Sì, ringrazio i colleghi del Consiglio regionale per aver votato in maniera unanime un atto che va a favore dei ragazzi che soffrono della sindrome dell'autismo, delle loro famiglie, di un percorso individuale che necessita, di una diagnosi precoce che deve essere fatta, di un'attuazione, di una delibera che da troppo tempo attende di essere applicata in maniera omogenea in tutta la Toscana. E questo credo che sia un atto importante. Quindi un monito, un richiamo all'assessorato alla sanità perché su questo aspetto si possa vigilare. Io fin da quando ero presidente di Commissione di Sanità su questo tema mi sono attivato con forza e oggi abbiamo ripresentato con coraggio questo atto che poi va a favore delle famiglie e dei percorsi individuali dei ragazzi che devono avvenire sia in ambito scolastico ma anche fuori dalla scuola. Questo è un elemento positivo che può dare tanta autonomia ai ragazzi nel contempo, se individuato in maniera precoce, può, una diagnosi precoce può aiutare anche a migliorare molto, molto la qualità della vita di questi ragazzi. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.